Stamattina anche un asino, anzi due asini protagonisti della piazza per la festa di Sant'Antonio. Sì, ecco, sono i nostri esinelli, i nostri amici, sono Gigia e Trilli e poi in piazza c'è anche Romeo, il maschio della famiglia, diciamo. Noi siamo di Pesaro, ce li abbiamo poi in campagna qui nella vicina Romagna per problemi di spazio. E niente, ci teniamo tutti gli anni ad esserci qui insieme alle Giacche Verdi per questa benedizione, questo momento di vita condivisa con i nostri amici animali. Un ritorno dopo la situazione pandemica quest'anno? Certamente, quindi speravamo una giornata di sole bella come questa, così da poter stare in compagnia un po' di tutti con le dovute protezioni ovviamente, però esserci anche quest'anno. Abbiamo fatto il possibile. Ecco Romeo, è arrivato anche Romeo adesso. Come si chiama? Si chiama Batuffolo. Quanti anni ha? Allora, l'età precisa non si sa, però più o meno sui tre mesi. Da quanto tempo è che ce l'hai? Da Natale. Te l'hanno regalato? Esatto, sì sì. Sei molto affezionato a questo piccolo animaletto? Molto, infatti delle volte è un pochino più fiacco e quindi mi preoccupo un pochino di più perché comunque ci sono molto affezionato. In casa lo lasci libero? Come funziona con un coniglietto? Allora, io di solito sta nella sua gabbia, però molto spesso lo prendo in braccio. Anche due bengalini protagonisti della piatta questa mattina? Sì sì, oggi per questa benedizione siamo venuti. Di dove siete? Ginestreto. Tutti gli anni venite alla benedizione? Sì sì sì, abbiamo un cane, un gatto, i bengalini fanno compagnia ai bimbi durante il giorno, poi in questo periodo di lockdown servono molto. Quanti sono? Oggi siamo forse ridotte visto il freddo, però una decina di cani abbiamo rimediato anche oggi per l'occasione. Voi siete un'associazione? Sì, noi siamo Happy Dog Park, siamo una scuola di addestramento, è qui di Pesaro e approfittiamo appunto per dare un pochettino di vita anche a questa manifestazione che hanno organizzato. Il cane è il miglior amico dell'uomo? Certo, certo, poi lavorandoci che lo conosci ancora meglio capisci bene le loro potenzialità. Quindi non dovrebbero mai essere abbandonati, lanciamo un appello per questa cosa. Certo, abbandonare un cane che darebbe la vita per il proprietario è proprio un gesto ignobile diciamo, per non dire di peggio.